La classe operaia esiste al 30%. La vecchia classe operaia, quella nuova non è più classe operaia. I metalmeccanici esistono ancora, però è cambiata appunto la mentalità del metalmeccanico. Ormai non bisogna più pensare al metalmeccanico, il classico operaio con la chiave inglese in mano, ma il metalmeccanico è cambiato, nel senso che sono cambiate le tecnologie. I metalmeccanici nelle fabbriche ci sono ancora, altro che se ci sono.